Sopra le mani, vado alla porta di partecipazione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Che ne pensate? Ci speriamo o continuiamo? Il vento che facciamo? Lo facciamo stare calmo? Siamo noi a sopravvalire su di lui? Allora andiamo con l'ultimo brano e vi garantisco che vi regalerò qualcosa di veramente particolare Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!